Non vedo l'ora di venire a Lugano. 12 di ottobre, vengo con un mio DJ set in occasione del Film Festival dei diritti umani. 32 film che arrivano da oltre 20 paesi nel mondo e si parla di diritti umani difesi, violati, ci sono alcuni film di animazione. Ci saranno dei dibattiti, che non saranno quei dibattiti dove uno si straccia le palle e non vede l'ora che finiscano, perché ci saranno i registi, gli autori, i protagonisti. E poi ci sarà anche la mia musica, il 12 di ottobre, a Lugano. Lo sapete, ci vediamo lì.